Aggressione in un'attività commerciale situata in piazza Vittorio Veneto ad Albanella. Una persona del posto si è scagliata contro un 33enne di Altavilla Silentina, colpendolo più volte con una roncola. Immediato l'arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Agropoli e degli operatori del 118, che hanno soccorso il ferito, il quale nel tentativo di difendersi ha riportato un profondo taglio al braccio. Le indagini dei militari si stanno concentrando sui reali motivi dell'aggressione, che potrebbe essere legata a vecchie ruggini.